Nonostante la crisi dettata dalla pandemia prima e dalla guerra poi, che si trascina dietro i rincari dei costi dell'energia, delle materie prime e della logistica, per il settore tessile abbigliamento, il 2022 potrebbe rappresentare l'anno della ripresa. Questo scenario riguarda da vicino anche le aziende che insistono sulla nostra regione ed in particolare lo stabilimento Zilli di Cappelle sul Tavo. Infatti, dopo un periodo di forte preoccupazione per il futuro dell'unità produttiva pescarese, manifestato dalle unità sindacali locali a cui hanno fatto seguito un incontro con i vertici aziendali, è stato siglato un nuovo accordo con il quale non solo verranno salvaguardate tutte le sue risorse umane, ma è previsto un piano di assunzioni su base quinquennale. A questo punto la speranza è quella che anche altri brand importanti della moda con stabilimenti nell'area possano riprendere con le politiche di investimento. Al momento noi abbiamo una serie di figure che stiamo ricercando sempre sul territorio. Da aggiungere una particolarità è che comunque lei prima parlava del trend positivo del settore, io lo rimarco, effettivamente per il settore di alto di gamma e quindi per anche il nostro prodotto Maison Zilli assolutamente c'è una ripresa e questa ripresa fa bene auspicare per un nuovo progetto ambizioso come il nostro. La paura a un certo punto regnava sovrano, quindi ovviamente avere una situazione del genere completamente diversa fa piacere, ma fa piacere anche per il territorio perché almeno si dà la speranza e la possibilità ad alcune figure di essere inserite in questo stabilimento, anche perché la professionalità e il know-how che abbiamo in questo settore, in questo territorio è risaputo perché abbiamo aziende e lavoratori che vengono fuori magari da altre situazioni ma che sono molto professionali e che potrebbero avere una possibilità all'interno di questa azienda. A confermare l'interesse per lo stabilimento in provincia di Pescara è stato lo stesso Elaph Gassam, fondatore e presidente di Negma Group. L'obiettivo principale è la salvaguardia e il rafforzamento delle unità produttive in capo alla Maison, in quanto il rilancio e il successo di un brand unico e straordinario come Zilli non può prescindere dalle risorse umane. Oltre alla boutique di proprietà Parigi, al momento sono tre i siti produttivi gestiti direttamente da Zilli, Lione, l'atelier di Curno e come detto Cappelli sul Tavo, che con il nuovo piano strategico prevede il rafforzamento del capo formale e di altre tipologie di prodotto che più si addicono al know-how del territorio abruzzese.